Il primo pensiero di Antenna Pomeriggio oggi è rivolto a Francesco Pinna, il giovane studente di Trieste che ieri ha perso la vita mentre lavorava all'allestimento del palco che sarebbe servito per il concerto di Giovanotti. Un giovane di 20 anni che lavorava per pagarsi gli studi come migliaia di suoi coetanei che noi tutti incontriamo ogni giorno. Quanto guadagnasse oggi che non c'è più 5 o 13 euro è solo uno spunto per fiumi d'inchiosto, si direbbe. La sua morte pesa su chi ogni giorno dovrebbe invece alzarsi con il proposito di costruire un futuro per giovani come lui. Giovani a cui andrebbero date risposte e per cui abbiamo il timore non si stia disegnando nulla di buono o perlomeno di costruttivo. In queste ore si sta chiudendo il cerchio sugli emendamenti alla manovra e di sicuro quelli che hanno un peso molto rilevante sono quelli relativi alle pensioni e alla tassazione degli immobili di cui tra l'altro vi diremo tra pochissimo. Ma certo anche la questione relativa all'adeguamento delle retribuzioni dei politici italiani a quelle dei colleghi europei non è da sottovalutare anzi sembra però sia stata diciamo pure procrastinata con la scusa della legittimità. L'emendamento presentato oggi prevede che il Parlamento e il governo ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni assumano immediate iniziative idonee a conseguire gli obiettivi così è scritto testualmente ma purtroppo la nuova norma non fissa un termine preciso e questa per noi lasciatemelo dire è una grande sconfitta ma anche l'amara impressione che sia cambiato poco o nulla solo tasse per le classi per i deboli e di lavoratori dipendenti e nemmeno l'ombra delle liberalizzazioni che erano state promesse. Allora la prima domanda che vi porrei oggi ma di quale crescita parliamo? Se andiamo avanti così la strategia è una sola prendere dove è più facile e chiudere ancora una volta l'occhio sulle zone franche di un paese che a questo punto deve decidere di farsi sentire adesso oppure deve rassegnarsi per sempre.